No fucking child! Maidoo! Tegokutestrondes! Dove sono i miei minibot? Eccoli qua! Oggi parliamo di Ratbat e Rumble che sono appena stati venduti qua in Giappone, sono arrivati qua ieri, ovviamente in Europa e in America sono già venduti da tanto, però vabbè a me sono arrivati solamente oggi, e con questi sono completi tutti i minibot di Soundwave, mancano solamente, solamente Frenzy! Chissà perché Frenzy arriva per l'ultimo, comunque va bene stesso! Ok, eccolo qua Soundwave e proviamo per prima cosa a mettere, metto Ratbat nel petto di Soundwave perché Rumble una volta messo dentro non viene più fuori, è una grandissima rotura di scatole ma è così! Ratbat, vedendo con questo bel viola, fa molto di structure, ottimo, esce per modo di dire, col pulsante non esce ma va bene stesso, questo è l'unico problema che ha questo Soundwave, perché per il resto è una figura secondo me stupenda! Ok, vediamoli da vicino, la trasformazione è ultra semplice per quanto riguarda Ratbat e controlla Frenzy si tirà giù così, si aprono le ali, si alza un po' la testa e si alzano così, tirano giù le gambe, la testa si deve venire un po' fuori, ok? Eccolo qua Ratbat, fatto! Mettiamo in piedi sulla scatola di Amazon se ci sta, probabilmente non ci starà! Oh c'è stato! E di fatti non ci sta! Ok Frenzy, eh Frenzy scusate Rumble, la testa è qua di Rumble, per cui si aprono così, per prima cosa le gambe, si prendono e si girano sul davanti, peccato per queste scritte qua sulle gambe che sono un attimino fastidiose! Poi, allora qua le braccia si tirano sui pugni, si tirano sui pugni e si mettono così giù le spalle, eccolo qua e ce l'abbiamo trasformato e veramente finisce su tutto subito, eccolo qua! Adesso le vediamo un attimino, innanzitutto come si può vedere che Rumble è fatto bene come The Sculpt e la testa gira benissimo, anzi pensavo che non girasse perché prima era molto dura, invece gira senza problemi, le braccia ok e ovviamente i gomiti non si possono girare ma sarebbe pretendere troppo! Abbiamo qua i pugni che si possono un attimino muovere, il problema grosso secondo me che questi pugni come vedete hanno questo specie di cilindro qua davanti che è molto innaturale però serve per mettere gli siege effect per chi li vuole! Per me se lo potevano anche risparmiare, sono sincero! Ok e poi abbiamo queste gambe con questo bellissimo Sculpt, c'è solamente un piccolo problema! E' di un traccagno devastante questo Rumble qua! Facciamo un bel confronto con tutti gli altri Rumble venduti fino adesso! Eccoci qua col nostro siege Rumble, il più piccolo di tutti! La versione uscita un po' di anni fa con la che si trasforma in mini disco è quello di World for Cybertron e la versione più grossa di Rumble con la che si trasforma in car armato che ne ho due, ovviamente essendo un fanatico di sound web deve avere un sacco di suoi mini robot, due dello stesso per cui la versione car armato e la versione robot e chi ha i due martelli direttamente dietro e poi ovviamente per ultimo la versione masterpiece vedete che confrontato con la versione masterpiece sembra il papà che porta l'asilo figlio c'è una differenza veramente molto molto grossa di statura ma la differenza di statura è derivata dalla lunghezza delle gambe perché se vedete qua il torso non c'è e alla testa ovviamente il masterpiece è più grosso però non stiamo parlando di una differenza stratosferica la differenza stratosferica sarà il fatto che non c'è le cosce oppure c'è solamente le cosce perché sono tracagna non c'è non c'è polpacci vabbè si tratta di un siege un toys per cui non possiamo pretendere la qualità masterpiece vabbè però è un attimino diciamo molto 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 tracagnotto adesso vediamo ratbat e qua c'è veramente da penare perché fare stare in piedi è un casino abbiamo qua in fondo che non è ratbat e buzzsaw però è anche la versione ratbat di questa identica quel che si trasforma in mini disco poi abbiamo qua è l'unico third party di oggi quel vecchissimo perfect effect che si trasformava se non sbaglio nel tridente che poteva essere anche trasformato una parte di quei pezzi che c'erano nella scatola in questa specie di ratbat big bat mood e poi il masterpiece che c'era insieme sound blaster e il nostro ratbat di oggi confrontando devo dire che il masterpiece il siege è veramente fatto molto bene anche nei confronti del masterpiece si tratta di ovviamente prezzi diversi anche qua la testa del pipistrello eccetera è molto molto ben fatta anche qua la schiena abbiamo un remasuglio degli sluster qua di coso di ratbat la versione masterpiece ovviamente ha più colori nella testa le ali più grosse e questi due sluster qua razzi fatti proprio ovviamente questo è più curato ma tutto sommato per per quello che costa questo è veramente molto molto fatto bene ok torniamo a sandweb e vediamo come combinarlo con i suoi nuovi minibot eccola qua la famigliola di sandweb al completo abbiamo jaguar abbiamo ovviamente condor e i nuovi due arrivati rumble e per quanto riguarda ratbat non abbiamo posti dove può essere messo incastrato eccetera fissato per cui direi che messo quasi sulla spalla qua sulla spalla qua sul dietro è forse la situazione miglia soluzione migliore perché comunque qua ci sta bene non non rischia di cadere ovviamente messo un po qua sul lato si nota di più però comunque aveva non ci sono punti fissi ma comunque ci sta su bene ok un controffronto finale con il masterpiece sandblaster con ratbat e shiji sandweb con ratbat ovviamente questo è un masterpiece un prezzo completamente diverso è molto più g1 eccetera ma anche questi due qua secondo me non sono da sottovalutare fanno la loro porca figura benissimo oggi il mio il mio movie finisce qua e ci vediamo le prossime recensioni ciao ciao e ci ritroviamo e ci ritroviamo su take a cuoco destro controlla